Ciao a tutti ragazzi, sono Gonxivitol, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi, Steph e Fere ci hanno sfidato E io mi sono portato, ovviamente, Fixer a supporto Visto che già una vittoria l'abbiamo fatta insieme Era quella delle armi silenziate Questa volta ci hanno proposto qualcosa di un po' più difficile Fixer, tu non sai ancora molto di quello che mi hanno proposto Ti ho detto giusto qualche cosetta Devi andare nelle impostazioni, adesso lo facciamo insieme Oddio Vai su K-Binding Hai presente i muri, i piatti e qualsiasi cosa? Ecco, tieni solo Roof e togli tutto il resto Possiamo usare solo quelli e possiamo editarli Per bildare, ovviamente Non far venire strane idee Per favore, non far venire strane idee Che quello potrebbe essere problematico Impossibile Fatto? Aspetta Ok Purtroppo ho fatto Ok Siamo pronti Ok ragazzi, ci lanciamo subito Andiamo assolti Questa challenge È un vero casino Ma Qualcosa di allucinante Veramente Non me l'aspettavo No, veramente Ricordati come scegliamo di editare subito le scale Almeno in Irle ci saranno Io sono sicuro che me lo dirai fino alla fine dei tempi Non me lo ricorderò mai Sì, anch'io non me lo ricorderò mai Solo quando scendo me lo ricordo, è incredibile Tra l'altro sono atterrato malissimo Davvero? Da solo Sono da solo Addirittura Ci sono Tre team Ci sono Sì Metto almeno un minuto a arrivare Un minuto Ma non prendermi in giro Ma questo è deficiente Aveva tre armi Li stavo correndo a fianco E non mi ha ucciso E questo c'è un lancia granate Occhio fixer È sopra di noi L'anigia con l'anigia granate Non ci credo Ha esplosito uno scaffale che era sotto Sì Fa danno ad aria Ma che problemi hanno questi? Abbiamo un problema Adesso abbiamo un problema Non ci sono più le scale Fixer E vabbè Il materiale è costruito Dimmi che hai bende Ok A te ti serve lo scudo a grande Dammi il medikit Tu ti bevi lo scudo a grande Io lo saluto Ok Tieni questo se lo vuoi Tieni questo se lo vuoi No Ho già il pump blu Cioè questi hanno trovato due pump blu Io ho un IV shotgun per fortuna Ok Scudino Neanche un altro No ok Tranquillo Ok Fermiamo materiali qua Lancia granate Lo prendo da subito Assolutamente Ovvio Ho una granata Dimmi che ne hai Figuratile Stava spammando ogni due secondi Questo Da quando è sceso Hai iniziato a spammare granate Sei tu? Sì Pazzetto Oddio non ho colpito il pump Ne hai 15 Sì Mi sa che me ne dai un paio Te ne posso dare 4 perché poi non posso chiusare l'altro caricatore Del caricatore almeno Eh Ah Ti ho capito No ma che Abbiamo altra gente qua intorno Sopra 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 Io vorrei trovare un assalto Te lo dico con tutta sincerità Dov'è la porta di sto coso? No non ce n'era Possiamo editarlo Dove sei che combatti? Non sto più combattendo Ah L'altro è sopra? No Arriva Arriva È sopra Sta costruendo Lo vedo È fortissimo Mi ha preso due volte in testa E non capisco Tre volte Morto Grazie Tutte tre volte in testa mi ha tolto 60 Come sei? Ah se è su Riesco a salire? Sì Riesco a salire Ho editato tutto il percorso Ok Ecco qua che si sblocca la rotellina Va bene La rotellina Eh la rotellina La sensibilità Ho solo uno slurp Lo posso usare subito Dove sono posto Tieni Scudini Sì vabbè Ho sbagliato Ho fatto benissimo A editare questo Facendogli credere di poter piazzare un muro L'ha piazzato sopra E l'ho sparato da sotto Facciamo che ti è andata bene Dove è morto l'amico? Non era giù Dove sei tu? Teoricamente Mi è sparito A meno che non sia sia entrato dentro la casa Avevano un fortress anche loro Stavano arrivando da loro di fortress Bene Che cavolo Siamo in zona buona Mi mancherebbero Munizioni piccole Ne ho 61 Io ancora non ho un assalto Vabbè Cioè loro non avevano un assalto Non ho trovato Ho trovato il cadavere Hanno un assalto Almeno Hanno creato un castello Praticamente Sì L'isola è enorme Si vede anche da qua Ah si è salito Dalle loro building Sì Stavo a curiosare Ma hai lottato anche qua Anche di bene Altri scudini? Ok Tu cos'hai come cure? Un medikit Ah questo Si stavo ditando Questa porta forza Stavo ditando Butto le bende Tengo gli scudini Uh cecchino Ho sbagliato un caccia Però Ehm Si Lo prendi Senza esitare Hai mattoni? Venti Riusciamo a sfonderti da sta roba? Secondo me è un po' uno spreco DC Si Ci servono dopo abbiamo detto Tutto ha lottato qua Possiamo anche andarci Dobbiamo farmare un po' di materiale almeno Anche se è legno Dobbiamo farmarlo Ho trovato un missile per caso? No Con il cacchino Io ne ho uno Cacchino Buono il lama Buono il lama Grandissimo Allora ce lo possiamo prendere lo scar Buonezza l'universo Chi è? Io Parolamo Ah ok C'è uno slurp Poi clinger Impulso strano Come si chiama? Shockwave Clinger Mi tentano Una chest qua in questa casarotta Oh comunque sto pensando di usare questa come building Sì? Sì Già da adesso? Sì Oh hanno costruito a fianco a me Eh Avessero costruito qualcosa di normale Dov'è l'altro? Sopra È saltato? E muore Buono così Non caricare il lanciagranate Assolutamente C'è il lanciagranate? No C'è il lanciagranate viola Tanto non ho granate Non aveva neanche sto tizio? No Però era a carico con 4 Almeno Qua legna Legna Sono pieno Sono full Ah Brava la gente che lutta per noi Ma l'erdo fa accanto? Davvero abbiamo un erdo fa accanto? Va bene Quando è arrivato quell'erdo? Non lo so Però ci possiamo fullare entrambi Penso che io mi tirerò il jug Sì sì Beh tu sei a meno di 50 No no sono a 50 precisi Comunque mi servirebbe il munizioni Di qualsiasi cosa Vai spara 9 del pompa Ne ho 68 Non posso sparare Non ho munizioni Allora ne ho Del pompa Fixer per favore 9 del pompa Poi 68 dell'assalto 133 della mitraglietta E 13 De cecchino No è 202 De cecchino tieni Non lo uso Qua ho mollato Cosa ho mollato? Tu non hai trovato razzi? Non ho trovato neanche un razzo Perfetto Faccio un altro pompa blu E la partita è di pompa blu Sì A quanto pare Un altro chug Oh Il barrette Signori ci abbiamo gente davanti al nord est Vicino? Case C'hai tu il barrette? No 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 Prendilo Dov'è? Ok Un altro chug tra l'altro Lo posso prendere il cab Spostare il medico Spostiamoci qua Eh perché non mi piace stare fermo Si stavano spostando sulla sinistra della casa distrutta Eccolo Ah lo vedo Ma è da solo? Lissato Sembra di sì E sembra anche molto veloce costruendo Non posso usare granate io Non è da solo Ha atterrato uno E' qua sopra E' qua sopra di me Ok Vabbè Non ci credo L'hai ucciso? Si Mi ha preso in golo con il razzo o sbaglio? Si E' esattamente quello che è successo Mentre lo uccideva Ma abbiamo un lanciarazzi Incredibile Abbiamo un lanciarazzi E abbiamo una giacca giusto? Si Usala direttamente Vedo cosa c'è Tieni questi? Mamma mia Non guffare No no Non sto guffando Non sto dicendo niente Ho solo detto Mamma mia Sto l'amo era forte Te l'ho detto che era veloce buildando Era veloce buildando Molto veloce Da lì ho capito che era forte Ehi caccia blu addirittura Ah no ma è quello Ho questo Trampolino di eagle Medikit per te Perché sono a zero Ne ho tre io Ho due launchpad Buonissimo Io sto cambiando mitraglietta Ne vuoi uno? Vieni Si Anche una di queste Boh No Vieni anche una di queste Quante ne hai? Una Ok Prenditi il medikit e tiratelo Rift Rift go Eh questo lo prendo al posto della desert Non so neanche perché ho una desert Tengo medikit Ho uno scudino No direi medikit Ho due rift Vabbè Si tieni un medikit Se è un solo scudino Tieni un medikit Si si Io ho due rift Un campfire Hai bisogno di munizioni Della mitraglietta? Ne ho 344 Ok Mentre dell'assalto ne hai? 574 Eh allora me ne dai Ne ho 170 Tieni 185 Cavolo Sefano razzi Assolutamente Mi sto posizionando qua Scrutando un po' il posto Quelle sono le nostre building No Quelle erite Stiamo in mezzo Un po' A tutto E non mi piace Prendiamo i poteri Visto che ce li abbiamo vicini E controlliamo la zona Vicini un po' Relativo ma Vabbè Basta prendere il primo cratere Saltare sul potere E riprendere il cratere Tutto questo è il rimo Esatto Te l'ho detto Da quando ho iniziato Con gli indovinelli Mamma mia Un po' etta Io switchi già a pietra Switchi già a pietra Io ho 178 di pietra Ne ho poca Io ho 640 Te ne passo No no tranquillo Ho preso doppio cratere Potere e cratere Adesso Beh Cratere Davanti a me Li vedo Occhio No aspetta Avviciniamoci col potere O no Subito O con il launchpad Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Il dato di scudo Ok continua Non voglio ancora uscire Non so parli di te No no Io sono molto più lontano Ah Serve un po' terra Così volo da te No no Non venire assolutamente Cioè Non venire qua Perché Pensano che io me ne sia andato Sto aspettando che si girino a sparare te E li check io Allora li continuo a tirare Ok Però mi possono check in alla qua Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Tranquillo Sto per finire i razzi anche I sacchi un po' di scudo tutti eh Vai E' morto E' morto Uccidilo Vieni 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 No ti tiro su è meglio Mamma mia Ho un medikit Launchpad Ce ne andiamo con il launchpad Uso il rift Ok aspetta aspetta Non usarlo Prendo l'altro medikit Ok Prendi scudi poi No Vai andiamo 14 12 Ok ho 10 HP Gli altri dovrebbero essere sulla nostra sinistra Oh non mi hai fatto entrare Maledetto Hai usato un medikit? No Se avessi pensato a prendere gli scudi io sarei morto Eh forse hai ragione Giusto o giusto in effetti Ho recuperato giusto 4 razzi Io non ne ho Ok Ah un campfire Ah cavolo non ci serve Ti sembra full alto che serve il campfire Non è un campfire per gli scudi ancora Però è una buona idea Sarebbe figissimo Ok Sotto di noi Sì 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 Dai mi ho sparato il razzo dietro Fixer E' tuo Eh c'è anche l'altro C'è anche l'altro Non l'avevo visto Non ce la faccio Conferma C'è ha preso l'albero e mi ha confermato con l'albero Sta arrivando altra gente ancora Altra gente con lanciarazzi Ma quanti ce ne sono? Avvano tutti i lanciarazzi ma che sfiga Hanno usato il tuo go adesso questi Incredibile kill 4 4 siamo a 11 Buono Mi piace Mi piace Bene ragazzi per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate un like Commentate Condividete Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche i social che ci sono in descrizione Ci vediamo in un prossimo video Grazie e arrivederci Ciao alla prossima